Che effetto fa andare a giocare la prima partita decisiva? Ancora mancano quattro partite, la mentalità deve essere quella che ancora mancano quattro partite e quindi ogni partita deve essere per noi come una finale. La matematica dice però che questa potrebbe essere la volta buona. È una partita difficile, bisogna lottare, non bisogna mollare e vediamo cosa ne esce fuori. Più forte la voglia di vittoria del Teramo o quella di salvezza del Prato secondo te? Domenica daremo l'anima sicuramente, è un sogno che non si può descrivere. Io personalmente vengo dalla Serie D, ho fatto tanta gavetta e sono orgoglioso di potermi giocare una cosa del genere. Cosa si prova allora ad essere a un passo dal sogno dalla Serie B? C'è tanto entusiasmo, è chiaro, ma c'è anche consapevolezza che comunque ancora bisogna sudare e lottare per questo obiettivo. Giocherete a lungo Bisenzio, però l'impressione è che forse giocherete in casa per la presenza dei tanti tifosi del Teramo. Questa cos'è, una carica in più? Sicuramente, ultimamente i tifosi ci stanno dando una grossa mano e è stato bellissimo sabato vedere la curva piena, la tribuna e comunque la gradinata piena di persone. Speriamo che pure sabato ci diano una grossa mano perché abbiamo bisogno anche di loro. Di questi tempi si comincia a pensare e a guardare anche al mercato. Cianciarelli che farà il prossimo anno? Cianciarelli va a lavorare l'anno prossimo. Fabbrica magari? Non lo so, speriamo che qualcuno me lo prenda perché sennò è un casino.